Una giornata che si presenta a propizia potrebbe essere funestata da un taglio letale. Ai, abbastanza che dolore! Ma su Roscofoggi parla chiaro. Sarà per voi una terribile giornata no? Manfredi è un ragazzo meraviglioso. Voglio sapere tutto sul segno zodiacale della Vergine. Ma dice Roscofoggi? Lasciateci passare! Lasciateci passare! Ma tu di che segno sei dall'11 dicembre al cinema?